Innanzitutto bentornato, da un anno e mezzo, due anni a questa parte, io ti ho seguito spesso in tv con il Benevento e ho notato che in questo lasso di tempo, da quanto ci hai lasciato, sei cresciuto molto sotto ogni aspetto. Secondo me, sulla parte tecnica, per quanto riguarda la corsa, per quanto riguarda il senso tattico, ma soprattutto come personalità. Sto sbagliando, è soltanto una mia convinzione, oppure condividi questa mia analisi? Buongiorno, è detto tutto giusto, perché visto che due anni fa ero ancora un ragazzino, però adesso ho 25 anni, quindi sono un po' più maturo. Sì, a livello tecnico, ho messo tanto impegno, perché anche io lo so che è un po' quello del mio difetto, che devo migliorare tanto, quindi questi anni qua ci ho messo lì sempre sul pezzo a lavorare proprio a livello tecnico, poi tattico, tutto dipende dal misto, poi lì è la bravura dei giocatori di imparare subito, prima della partita. Quindi rispetto a livello tattico, sì, però anche ancora c'è tanto margine di minorare nella fase tecnica. Ciao Raman, buongiorno anche da parte mia. È passato un anno e mezzo, è cambiata la serie, della serie A alla serie B. Che frosinone, che ambiente pensi di ritrovare in questa tua seconda esperienza qui in Ciocciaria? Grazie. Spero di trovare tutto l'entusiasmo che c'era due anni fa in Serie A, perché ho visto che è sempre frosinone e la squadra è rimasta sempre la stessa, perché quando sono arrivato ho visto anche i miei ex compagni di due anni fa, ci sono quasi tutti, poi quelli che sono arrivati nuovi. dal mio punto di vista, dal primo giorno che sono entrato in sport, ho visto che sono tutti uniti, quindi io ho trovato lo stesso entusiasmo che c'era qui due anni fa. Però credo che anche questo qua sarà ancora di più, visto che il sogno è così importante che non possiamo perdere l'entusiasmo. Ciao, una domanda, non so se te l'hanno fatta, sono arrivato poco, un po' sul personale. Io ho visto un grande chip sign, serie B, un trascinatore nelle file del Benevento e poi quest'anno qualche difficoltà in Serie A, un po' come l'avevi trovata con il frosinone e poi con il frosinone ti hai rifatto male. Tu ti sei dato una spiegazione, perché in Serie B fa la differenza e in Serie A non riesci ad importi come vorresti? È una bella domanda, grazie. Sì, in Serie B diciamo, l'anno scorso ho avuto la fortuna di fare un bel campionato, poi non ho visto nessun problema fisico, poi mi ricordo, se non mi ricordo male, un anno e mezzo fa quando ero qui a Frosinone, credo che aveva iniziato bene, da quando mi sono fatto male la caviglia da lì e non sono riuscito a riprendermi. È stato lo stesso l'anno scorso a Benevento, che ho saltato praticamente tutto il ritiro, quindi è stato un po' molto, molto difficile per me, proprio rientrare nelle condizioni, proprio anche per trovare ritmo. Quindi spero che questo sogno qua, sono venuto qua a sognare insieme ai miei compagni, di raggiungerlo poi, speriamo anche se siamo lì, che non ricado in questi infortuni qua, che tutte le volte in Serie A mi ha un po' tirato un po' dietro. Ascolta, sai che, almeno fino adesso, Longo sta giocando soprattutto con una mediana con due centrali, no? E con l'arrivo tu e di Cone, diciamo, ci sono abbastanza giocatori in quel ruolo. Cosa dovrei fare per guadagnarti una maglia da titolare nei confronti dei vari Maiello, Cone, Gori, Besea, Frara, se sta bene? Come ho sempre fatto, testa bassa, lavorare e cercare di migliorare, cercare di acquale tutte le occasioni che mi darà il mister in campo, che non li faccio pentire, così, se lo faccio bene credo che il mister mi fa giocare, se lo faccio male, giustamente, è giusto che mi lascia in panchina. Considerando anche che Gori è squalificato, quindi si libera un posto lì in mezzo, sei pronto mentalmente e fisicamente, magari per fare l'esordio già sabato pomeriggio? Sì, sono già pronto, fisicamente mentalmente, se no non venivo qua, quindi sono venuto qua con tanto entusiasmo, visto che ho fatto parte del gruppo che abbiamo dato questa grande delusione a Tivosi, quindi giustamente vengo qua poi a cercare di ripagarli con una gioia enorme, visto che ho fatto parte della delusione di due anni fa. Altre domande? Mangi? Ciao Ramano, buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. Che serie B ritrovi? La trovi differente rispetto a quella della passata stagione? Già ti sei fatto un'idea delle squadre che sono da battere nella corsa promozione? Grazie. Sì, secondo me ritrovo ancora una serie B ancora più difficile, perché visto che ci sono squadre come Palermo, Lempoli, Parma, che stanno riforzando anche tanto, quindi sarà ancora un campionato più difficile. Come ho detto, noi dobbiamo solo pensare noi stessi, partita dopo partita, e alla fine vediamo. Un'ultima per me, Raman, dunque, io credo che tu sia venuto qui per tornare in Serie A. Certo. Rimanerci, naturalmente. Sì, sì, questa è l'ambizione che mi ha portato qua. Grazie. Grazie.